Siamo a Salò, l'inaugurazione di un nuovo tratto di pista ciclabile intitolato al Salodiano Dottor Ugo Gagliardi. Il tratto rappresenterà anche il collegamento tra la pista ciclabile della Val Tenesi e la Salò Limone. Abbiamo intervistato alcune delle autorità presenti. Questo percorso ciclabile è bello di per sé, perché è ben fatto, è largo, illuminato e ha una vista magnifica, però ha un'importanza ulteriore e molto rilevante che è quello di collegare due percorsi ciclabili di livello provinciale, quello che arriva solo da Brescia e quello che va verso Desenzano. Quindi si inserisce in quella grande rete che la provincia ha promosso tanti anni fa e che ha descritto e programmato nel piano della viabilità ciclabile e che è un piano di grande portata, oltre 600 chilometri, 400 già realizzati e che è importante in un periodo come questo in cui si parla insistentemente di sviluppo, ma si deve intendere uno sviluppo sostenibile, cioè rispettoso dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone. La mobilità ciclabile è uno degli elementi di questo sviluppo sostenibile. E poi, ecco, non dobbiamo dimenticare che siamo sul Garda. In Europa ci sono 12 milioni di ciclomatori che ogni anno fanno almeno una settimana in bicicletta. Ecco, il fatto di avere percorsi ciclabili sicuri e belli attirerà ulteriori turisti sul lago di Garda, quindi è importante anche per lo sviluppo economico e in particolare quello turistico. Sì, questa è un'opera importante che, come diceva lei, ben si inserisce nel tratto delle ciclabili così chiamate della Val Tenesi, che sono 15 chilometri di ciclabili. Sono due chilometri e mezzo che sono stati realizzati dal comune di Salò per 410 mila euro che vanno a inserirsi nella ciclabile che aveva già fatto la provincia di quasi 4 chilometri di altri 800 mila euro. Quindi un importante ciclabile che servirà non solo per permettere ai ciclisti di vedere un panorama fantastico come quello di Salò e di guardare anche dei posti di rilevanza storica e culturali importanti, ma soprattutto per la loro incolumità e per la loro sicurezza, anche perché purtroppo i decessi ancora di incidenti di ciclisti sono ancora troppo alti. Ecco perché i lavori pubblici non devono pensare solo a progettare strade, ma anche a programmare ciclabili sul suo territorio. Pensiamo infatti che dal 99, quando c'era solo un itinerario ciclabile, siamo arrivati oggi, nel 2011, ad avere più di 300 chilometri di itinerari ciclabili in tutta la provincia di Berescia. Ma direi un'opera importante e una stretta sinergia fra lente e provincia e comuni che credono nel proprio territorio, che suggera una chiusura di un tratto di una ciclabile che dà un largo respiro a tutto il passaggio, come dicevi bene prima tu, da Limone fino a questo tratto qua del Garda, col collegamento poi sul Basso Garda. Dal punto di vista turistico è una cosa veramente molto rilevante perché, come sapete, le ciclabili sul Garda sono molto amate, soprattutto in questa zona dove abbiamo l'entrata, per quanto riguarda la parte dell'Alto Garda, di tutta una serie di turisti provenienti dal nord Europa che amano molto questo tipo di vacanza. La ciclabile, che si può vivere tutto il tempo dell'anno, è quindi un motivo anche di destagionalizzazione, di visita sul nostro fantastico territorio, siamo in un punto verde stupendo e da qua si arriva in un minuto alla Val Tenesi, dove si può abbinare un ottimo turismo sportivo a un ottimo turismo enogastronomico. Sì, sicuramente per noi è un'importantissima opera perché, oltre a essere importante sotto un profilo turistico, perché collega ormai tutta la zona del lago fino a Poegnago e poi arriverà anche oltre, è importante anche per i nostri cittadini che hanno avuto la fortuna di ricevere questo preziosissimo dono, che è questa pista ciclopedonale, che è già molto utilizzata, sia con le biciclette che anche a piedi. Vi vedo tantissima gente che ha cominciato davvero a prendere l'abitudine, a venire a passeggiare, anche perché abbiamo un panorama che è eccezionale. E lo sforzo economico per il Comune per la realizzazione di quest'opera? Allora, lo sforzo economico devo dire che è stato per lo più della provincia, unitamente alla comunità montana, è stato fatto un accordo di programma, ovviamente anche il Comune ha messo il proprio importo, anche se in realtà l'opera del Comune è stata più di realizzazione, diciamo sotto un profilo così, di progettazione e soprattutto di realizzazione che non economica, perché purtroppo sappiamo che oggi come oggi i Comuni fanno molta fatica ad avere denaro per queste opere. Bene, ringraziamo il Sindaco. Grazie mille a voi. Grazie mille a voi. Grazie mille a voi.